Io sono Alessandro Marzotto e sono il direttore generale di L'Amole di L'Amole. La mia azienda è una storia nata per passione, una trentina d'anni fa, quando la mia famiglia è arrivata nel Chianti Classico e in particolare a L'Amole, all'epoca quasi abbandonata, anche se aveva una storia vitivinicola molto molto importante. Dall'amore a prima vista è nato un lavoro molto importante di ristrutturazione, di riqualificazione, di mantenimento delle tradizioni, partendo dalla vigna, ma arrivando anche ad alcuni edifici storici, come la storica cantina del Castello di L'Amole. È un lavoro che ci sta dando molta soddisfazione. È una grande responsabilità che sento mia da molto tempo. L'Amole di L'Amole è stata in qualche modo anche la mia primissima esperienza lavorativa e per questo ce l'ho sempre nel cuore. Una cosa, una sensazione che anche dopo tanti anni rimane è quella di arrivare a L'Amole in macchina, mettere un piede a terra e sentirsi già in pace. Per questo è uno di quei luoghi che è importante custodire e conservare anche per il futuro.